Oltre 15.000 spettatori per 35 spettacoli con un incremento di quasi il 50% rispetto al 2022 che aveva visto invece la presenza di oltre 8.000 persone su 37 spettacoli. Si è conclusa con successo la seconda edizione del Segesta Teatro Festival alla rassegna di arti performative diretta da Claudio Collovache per un mese a partire dal 28 luglio animato il Parco archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo. Un mese in cui fra il Teatro Antico e il Tempio di Afroditurania si sono avvicendati concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza fra cui sei prime nazionali oltre alle albe e le notti dedicate all'osservazione astronomica. Ed è stato un festival all'insegna dell'armonia e della bellezza che si è aggiunta alla bellezza dei nostri luoghi, molto pubblico molti riconoscimenti da parte del Ministero che sono aumentati decisamente e penso che il Segesta Teatro Festival stia muovendo verso un futuro molto positivo. È stato veramente un momento importante quest'anno perché dopo il disastro dell'incendio subito nella notte fra il 24 e il 25 rialzarsi era difficile. All'inaugurazione ho usato una matrafora che era quella dell'eroe ferito come quello delle tragedie greche che però sta in piedi. E così è stato, ma quest'eroe ha guarito queste ferite in pochissimo, ha reagito alla grande. Il programma quest'anno era, lo sapevamo, decisamente molto completo, interessante, accattivante e i risultati ci hanno dato ragione. Io penso che c'è anche la risposta della gente a questa terribile tragedia che ci aveva colpito e questa è la cosa che ci conforta sicuramente di più.